Coloro che hanno aperto, cioè il duo jazz formato da Andrea Chirico a chitarra e Cecilia De Lazzaro alla voce. Cecilia, cosa ci proponete per chiudere? Adesso un brano bossa nova che è il jazz brasiliano, quindi O Grande Amore di Carlos Chobin. Come l'hai detto bene, allora è verità, arrivi da lì o no? No! Prego! Beh lá sempre un nome para una mujer Reage ese per amore parecque continuer un falso amore e una vontade de morir Seja come advence, oh grande amor, che agisce, no corretale, come un perdone, 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 come un perdone. Cecilia De Lazzaro alla voce, Andrea Chirico alla chitarra, Asia Obolti e prima al flauto Traverso, Antonio Baseo alla chitarra classica, sono stati i protagonisti di questa mattinata con i loro strumenti, grazie naturalmente anche a Francesco Maria Mariotta e Andrea Celeste Pro Proda che sono i rappresentanti di classe che ci hanno raccontato le note di protesta che continueranno prestissimo naturalmente anche qui su Radio Gold. Grazie a tutti ragazzi. Grazie. Ciao.